Mi metto in una parte un po' più dignitosa, perché stavo qui a letto, ormai sotto la coperta calda, aspetta un momentino che devo staccare una roba, ok, stacchiamo questo hard disk e io mi sposto, mi metto in una posizione un tantino meno. Vedo una poltrona di vimini di quelle tropicali. Ecco, va bene così, vediamo un po', ok. Allora, lui mi ha cominciato con Ettore e mi ha parlato dei provost, che lui era addirittura nei provost nel 66. Io nel 66 facevo il liceo classico, ho fatto gli esami di maturità, avevo 18 anni. Quindi siete al 48 come lui, la stessa età sua, siete coetanei. Però lui credo che abbia una vita, abbia avuto una vita giovanile, molto più ricca, tumultuosa. Mi parlava di questo movimento dei provost a Brescia, aveva le biciclette bianche, non sapevo nulla di queste cose. Io non lo so, perché appunto io ero un ragazzo per bene, quindi non frequentavo… Non mi interessavi di politica a 18 anni? Sì, ero socialistoide, più o meno. Diciamo, nel 66 ci fu l'episodio all'Università di Roma… Certo, Paolo Rossi, socialista, buttato giù dai fascisti, mi ricordo. Buttato giù, ucciso dai fascisti. E lì ci fu la prima manifestazione studentesca di sinistra, che era mossa da queste forze istituzionali, socialisti, quindi non aveva ancora un carattere… A Brescia, stai dicendo a Brescia? A Brescia ci fu proprio una manifestazione, mi pare che fosse aprile, non mi ricordo bene quando è avvenuto… Anch'io ricordo il mese. Ecco, vai a controllare, eventualmente, quindi subito dopo c'è stata una manifestazione. In realtà c'erano manifestazioni studentesche anche in precedenza, ma erano di destra. Beh, la guerra è la giustizia. Erano sentimentalizzate, non dico di destra secondo le categorie attuali, però insomma erano abbastanza istituzionalizzate, cioè si andava patriottiche, delle cose di… E' chiaro, erano figli della borghesia, non c'era ancora la scuola di massa. Sì, però, sì, e soprattutto c'era questo rapporto, io poi avevo studiato un pochino la scuola tra resistenza inizio degli anni 50 e proprio le manifestazioni per Trieste, eccetera, che erano manifestazioni guidate dalle forze governative. Ci furono scontri con gli operai, mi sembra, nel 1953-54, infatti, in piazza mi hanno raccontato, mio padre mi raccontava. Ovviamente niente di questo, però c'erano stati appunto anche episodi di questo genere. Naturalmente, quindi questa manifestazione per Paolo Rossi è stata, come dire, un punto di trapasso e nessuno ancora poteva cogliere, perché chiaramente i socialisti erano al governo e quindi era ancora una manifestazione, se vuoi, di tipo governativo, ma però guidata da forze di sinistra. Anche la FIGICI c'era in questa manifestazione? Eh, non me lo chiedere, non me lo ricordo. Invece, una cosa che ricordo benissimo, nel 64, tu sai che ci fu quest'estate molto calda in cui si parlava di colpe di scolto. Certo, Sifar, De Lorenzo. E in classe noi avevamo due compagni che poi vennero subito bocciati, che erano fascisti, insomma, erano molto di destra. Io non mi ricordo neanche più che faccia avesse o altro. Però mi ricordo bene che negli ultimi giorni di scuola si dicevano, eh, vedrete voi queste... Quindi girava già la voce. Questo per tracciare così un quadro molto sommario della realtà politica studentesca di quegli anni. All'Arnaldo era molto attivo Ugo Galzoni. Ah, Psiup, no? Psiup, che era dello Psiup, che poi per noi ovviamente... Passò dall'altra parte. Tutta la sua storia personale fu abbastanza scioccante. Naturalmente lui era, sai, lì due o tre anni di differenza, erano già un'altra generazione. Quindi noi eravamo i piccoletti che contavano abbastanza poco e poi, certo, però noi abbiamo fatto il movimento studentesco e quindi abbiamo preso il potere dopo, diciamo così. Lui faceva il Giacobino, un giornale che credo fosse anche abbastanza interessante, adesso non l'ho più rivisto dopo tanti anni. Durò, fino a quando durò lo Psiup, perché ne ero in quartiera, il violino era fortissimo, molto più del PC dello Psiup c'era. Sì, sì, sì. C'erano i fratelli Tirelli, c'era tutta la gente qui e diffondevano il Giacobino, mi ricordo, casa per casa. Addirittura, ecco, io questo nel quartiere operaio non è che lo sapessi, vivevo in un altro contesto, in un altro ambiente. E quindi queste sono un pochino le premesse. In quegli anni lì, diciamo, subito dopo, nell'andare all'università, io andavo all'università statale di Milano, facevo il pendolare, ero abbastanza in contatto con Moroni. Primo Moroni, il famoso Moroni, che poi fece quella fine disgraziata che sappiamo tutti. E lì allora si parlava un po' di fare un giornalino di tendenze socialiste. Ero un po' coinvolto, ma non ne venne mai fuori niente. Però diciamo che io frequentavo un pochino questa realtà. Avendo avuto una formazione molto tradizionalista, eccetera, già questo in casa mi creava dei problemi con mio padre, eccetera. Ero un reazionario lui, tuo padre? Ero un reazionario, guarda, col senno di poi. Mio padre aveva fatto l'Africa per mancanza di alternative, la guerra del 35. Poi era rimasto lì. Aveva sposato mia mamma alla fine, nell'agosto del 38, erano d'accordo che lei andasse a vivere ad Addis Abeba. Poi nel momento in cui è cominciata Monaco, eccetera, hanno lasciato perdere. Lui era un fascista onesto, un fascista molto... C'era questa storia di famiglia che quando ci fu la marcia su Roma lui aveva 14 anni. E voleva partecipare alla marcia su Roma, mio papà. E mia nonna l'ho chiusa a chiave in bagno. Saggiamente, la nonna saggia. La mia nonna poi, vabbè, non lo so se raccontare queste cose perché poi non sono molto interessanti, forse per la ricerca che fai tu. Mia nonna diciamo che era tutto sommato una fascista di sinistra. Tanto è vero che siccome avevano l'osteria, i sali tabacchi, il negozio di alimentare in un paesino minuscolo del Veneto, lei ebbe l'idea del dopolavoro fascista e fondò questo dopolavoro dove il primo locale del Veneto si ballava. Che dalla fine della prima guerra mondiale non si ballava più. Quindi si riunì la conferenza episcopale del Veneto. Addirittura! Una roba, sì, questa roba poi l'ho scoperta attraverso internet. Hanno pubblicato il diario del parroco che parlava male di mia nonna, eccetera, per sanzionare questa provocazione incredibile che aveva fatto mia nonna, eccetera, eccetera. Su cui poi si innestò un episodio veramente tragico, perché il parroco non passò a benedire la casa, sai che facevano il giro, ma è tragico non sorridere perché è una cosa tragica della storia della famiglia. Il parroco non passò a benedire la casa di mia nonna e l'ultimo figlio di mia nonna che aveva 26 anni, pochi giorni dopo morì per una meningite fulminante. E quindi me l'immagino. E quindi Dio l'ha punita. Dio l'ha punita, un colpo psicologico spaventoso per questa donna, naturalmente, eccetera, eccetera. Però lei aveva ancora avuto il tempo di raccontarmi che poi quando passavano gli aerei americani a bombardare e tutti scappavano nel fosso dove andavano a nascondersi, c'era lei e il parroco. Si trovavano spesso a nascondersi nel fosso. Fine delle parentesi. Hai capito, cavolo. Comunque torniamo. Allora, 66-67 tu sei a Via Festa del Perdono. Quindi io sono lì a Via Festa del Perdono e comincia a svilupparsi il movimento studentesco che a Brescia arriva nel febbraio del 68 con un'assemblea al Salone d'Acemo che aveva organizzato Carlo Vigasio, che era uno studente di social... Non so se poi il personaggio ha avuto questo ruolo. Lui faceva sociologia a Trento. Quindi a Trento era partito per primo e venne fatta questa assemblea in cui cercarono di tenere il bandolo della matassa, i calzoni, i moroni, questa piccola aristocrazia politicante che si era formata poco tempo prima, ma ci fu lo spirito assembleare, no? E quindi praticamente io c'ero, c'ero, sì. Ed era pieno il Salone? Il Salone era stracolmo e ci fu questo dibattito molto vivace in cui Carlo Vigasio aizzò la folla, la folla dei partecipanti, contro questa elite di politicanti che uscirono abbastanza scornati da questa assemblea. E da lì nacque il movimento studentesco bresciano. In quel periodo lì, io poco dopo, sì, non avevo ancora vent'anni, ebbi la mia prima supplenza a Labba, dove tra l'altro mi trovavo, io avevo 19 anni, quasi 20, e mi trovavo in classe con ragazzi anche più ripetenti, i 22 o 23 anni, non più grandi di me. E lì ci furono i primi scioperi studenteschi, in cui io mi trovavo tra l'incudine e il martello, no? Perché ero studente, ero insegnante, non ti dico... E con Andrea Ricci avevamo fatto un giornalino, credo sia andato totalmente disperso, non so cosa ci potesse essere scritto su, che si intitolava Con Noi. E mi convocò il preside Albertini, noto epigrafista latino, preside dell'ABA, con le mani che gli tremavano, dicendo guardi questi disgraziati che cosa hanno fatto, hanno mandato fuori... No, hanno mandato fuori questo giornalino e hanno usato il suo nome, perché erano firmati gli articoli. E io gli dissi, preside, l'ho scritto io. Tu ti ritenevi, vicino ai socialisti, ti ritenevi in quel periodo? No, io ormai lì, basta. Era un cane sciolto di sinistra, diciamo. A quel punto, in quel momento lì, è chiaro, si era oltre, no? Per me quell'assemblea era stata un po' una svolta nella mia formazione, diciamo pure così. Per cui non credevo più ai partiti. C'erano le elezioni quell'anno lì. E si fece un'ulteriore manifestazione, un'ulteriore assemblea, poco prima delle elezioni, credo che le elezioni siano state a maggio, quindi sono state aprite. E si fece un'assemblea al Santa Chiara, anche quella affollatissima. Santa Chiara era un luogo simbolico, quasi, perché negli anni precedenti gli intellettuali di sinistra, Baldo, Cassa, Lussignoli, eccetera, lì tenevano iniziative di cultura. Facevano delle conferenze per gli studenti su temi culturali e davano, erano affollatissime anche quelle, e davano una formazione su scrittori, filosofi, eccetera, venivano presentati in forma anche teatralizzata. Quindi era un luogo abbastanza abituale per l'elite intellettuale studentesca di ritrovo. E lì, appunto, ci fu un'assemblea, si parlava anche già della guerra nel Vietnam, eccetera, insomma, durante l'assemblea esce la mozione, usciamo e facciamo una manifestazione. Approvata a furor di popolo. Per acclamazione, diciamo. Per acclamazione, fuori tutti, arriviamo e ci troviamo di fronte, allo schieramento della polizia in via Santa Chiara sulla strada per andare verso... Piazza Loggia. Piazza Loggia. Allora, ecco lì le teste calve che cominciano a prepararsi allo scontro. Vabbè, adesso io forse ingigantisco, il mio ruolo può darsi, insomma, però te la dico come l'ho vissuta io, non è detto che sia... dico, ma ragazzi, perché dobbiamo fare botte con la polizia? C'è via della Rocca, giù tutti di corsa per via della Rocca, la polizia rimane spiazzata. Qual è via della Rocca? Qual è? Via della Rocca è quella... Ah, sì, quella vicino, sotto il castello, certo. Perché dobbiamo fare lo scontro con la polizia? Andiamo giù di là. Quindi via di corsa, la polizia probabilmente doveva aspettare gli ordini, eccetera, insomma, riusciamo ad arrivare in centro, senza trovare ostacoli, con questa abile manovra di guerriglio urbano. Ti ricordi che c'era già anche Squassina, Dino Greco e così via? No, loro erano più giovani ancora, erano la generazione... Mancavano quei due anni e tre, erano quelli che arrivarono poi dopo a scalzare noi, come noi avevamo scalzato i calzoni. Perché era rapidissimo lo scambio. Era il giro di due o tre anni. Allora, lì poi ci furono... Andammo sotto il giornale di Brescia, insomma, Corso Zanardelli, Sitin, blocco dal traffico, borghesi sconvolti, polizia che bastona. E la tattica era andare, farsi bastonare un po', poi mollare di giù, quindi giù al giornale di Brescia, Sitin davanti al giornale di Brescia, di nuovo in centro. Insomma, alla fine abbiamo finito in piazza Vittoria e, insomma, è stata una giornata tranquilla. Poi ci vennero le elezioni dove il PC ebbe, tra l'altro, un buon risultato, se non ricordo male. 27,2 per... No, 26,9. 26,9. Dal 25,3 è da salire. Per l'Italia di allora erano già passivi. Era già passivi. Allora era tutto bloccatissimo, quindi si andava a giocare sulle percentuali del 2, dell'1%. Mentre il PSU, che si era unificato, era deluso. È una batosta. Scusero 14,5, ma rispetto al 19, che avevano tra tutte e due, Socialdemocratici e PSU, una delusione. E lo PSU, poi non aveva avuto un brutto risultato. 4,5, infatti. 24,6. Tu sei un esperto di questi... I numeri, ho scritto una cosa sui strussi estorali. Ogni tanto ti leggo. Ogni tanto ti leggo. E quindi lì, praticamente, si era creata una frattura col Partito Comunista, che era molto perbenista, naturalmente, ci aveva accusato con questa manifestazione di avere portato come è logico. Vantaggi alla destra, come al solito. Il gioco della destra, eccetera. Tu come li vedevi quelli del PC? Come li vedevi, allora, quelli del PC? Io non ho avuto mai grandissimi rapporti con loro. non erano molto presenti nel mondo studentesco. Non erano presenti. Erano una realtà prevalentemente operaia e io, fino a quel momento, non avevi contatti. Non avevo contatti. Li ritenevi stalinisti? Ti sembrava una cosa autoritaria, così via? O non li percepivi così? No, non li percepivo così. Li percepivo come moderati. Moderati. come incapaci di assumere delle posizioni nette e chiare. Cioè, io mi ero abbastanza radicalizzato, soprattutto poi sul tema della guerra nel Vietnam e poi autoritarismo. È chiaro che il discorso della lotta all'autoritarismo, che era l'elemento portante di questo movimento, non era nel filone culturale comunista. È chiaro, lo stalinismo non era loro. Figli del baffone ancora loro alla fine. Non dico proprio, ma insomma erano lì, erano lì. Il movimento si sviluppò, allora, in questa prima fase del 68 era ancora un fatto, sì, non proprio di elite, perché ricordo appunto anche a Labba uno sciopero studentesco molto, che vedi come insegnante, non ti racconto le scenette, sarebbero molto, molto divertenti, perché continuavano a pigliarmi per uno studente, naturalmente. Svega, l'età. Avevo la loro età e quindi vivevo una situazione un po' particolare. Però, il movimento divenne decisamente impetuoso e travolgente alla ripresa delle scuole e ci fu a novembre una manifestazione enorme, credo che ci fossero circa 10.000 studenti, aspetta, però prima devo, stavo saltando un altro momento. A maggio ci fu la contestazione delle matricole. C'era l'abitudine a Brescia tutti gli anni nel mese di maggio gli studenti universitari fino a quell'anno lì, poi in finì, si trovavano in piazza a loggia a fare un po' di goliardia e noi eravamo contrari alla goliardia. Andrea Ricci poi particolare aveva il dente avvelenato, figlio, lui figlio di un generale, io figlio di un ufficiale di grado molto inferiore, eravamo compagni di scuola e abitavamo, ci vedevamo da casa sulle due terrazze, tutte e due abitavamo all'ultimo piano di due condominietti a 200 metri di distanza e lì si organizzò la contestazione delle matricole e gli si impedì di fare la festa dopodiché non la fecero più. Ma a novembre tieni conto tra l'altro che io ero continuamente poi a Brescia ma anche a Milano. Certo. A Milano sì, da pendolare non ho partecipato tantissimo però poi ti racconto un momento anche abbastanza interessante. Comunque a novembre c'è questo sciopero enorme e questa è un'altra cosa che mi ricordo bene perché non so bene chi come a un certo punto mi buttano in mano un microfono parla o un megafono più che un microfono un megafono e lì tenne il mio primo discorso davanti a 10.000 persone e andò bene perché erano tutti disposti ad applaudire non è che ci fossero molti sottili distingue sono momenti un pochino poi naturalmente si cominciò a proseguire con manifestazioni contro la guerra del Vietnam ho trovato di recente un montaggio facevo qualche ripresina un montaggio video di una di queste manifestazioni a Brescia che poi ho messo dentro una specie di roba sperimentale e lì si vede insomma c'era ce n'era di gente e lì c'era il pc ti mando il link sul blog perché l'ho pubblicato sul blog vabbè è una cazzata fatta malissimo eccetera però c'è qualche scenetta in cui si vede che lì c'era anche il pc però lì era diventato un movimento e qui però avevate un coordinamento studentesco una struttura organizzata o no? e qui ancora non c'era nessuna struttura organizzata che io sapessi magari c'era ma io non la conoscevo perché tieni conto che ero pendolare tieni conto che erano gli ultimi mesi di vita di mio padre che stava malissimo malissimo morto di tumore a Natale del 68 e quindi poi mi sono trovato capofamiglia questioni tremende di debiti perché aveva fatto degli investimenti per carità per cui ho dovuto risanare insomma ho avuto parecchio parecchio da fare parecchio parecchio da fare ti dico che in termini attuali aveva messo su questa attività di allevamenti nella bassa una di Polli poi di Vitelli era andata male negli ultimi mesi l'aveva riconvertita a Polli non esagero ma insomma mi sono trovato addosso un milione di euro di debiti come oggi e siamo riusciti sono riuscito a facendo tutte queste altre cose nel frattempo però sono anche riuscito nel giro di un paio d'anni a risistemare la faccenda anche bene eccetera comunque questo non c'entra di nuovo molto tornando alla storia del del movimento quindi per diciamo il 68 69 va avanti un po' così e poi verso la primavera ci si comincia a trovare in un locale in via Moretto il potere 63 via Moretto 63 63 esatto dove non ha quel potere operaio no il potere operaio che non è potere operaio lo so era tutta altra cosa ma lì ci fu anche mi sembra io non c'ero ancora perché ero troppo piccolo ma febbraio del 69 ci fu l'occupazione del Calini se non sbaglio sì ci fu l'occupazione Calini forse anche dell'Arnaldo credo e non sono sicuro ma comunque torno a dirti sono momenti in cui non sono stato particolarmente presente per alcuni mesi perché tra la morte di mio padre e tutti i problemi diciamo che mi sono un po' rimesso in circolo a metà anno e ho cominciato a partecipare a queste riunioni del potere operaio che era un po' tutta una specie di tutta l'estrema sinistra si trovava lì no tutta no perché era già la divisione interna c'era già stata lo sai già che c'era però era il nucleo diciamo in quel momento se non ricordo male ma se guardi quelle cose che ti ho mandato lì trovi anche degli spunti cronologici più precisi della mia memoria attuale però c'era Gigi Paoni anche lì c'era quella bel personaggio di Gigi Maoni che diciamo siamo stati dentro pochissimo tempo dentro c'era Franco Lombardi che veniva dall'esperienza di provost eccetera quindi c'era diciamo che era nato come momento di aggregazione generale però l'impianto era leninista infatti poi si è trasformato nel centro Lenin più di così e siamo stati dentro due o tre mesi e siamo venuti via in un gruppo in cui c'era Lombardi Ricci eccetera perché non accettavamo quella visione quella visione leninista in quell'anno in quel momento lì o poi o via ancora da qualche parte degli appunti mi ero studiato a fondo beh oltre a tutte le letture che allora si facevano il che fare eccetera però materialismo ed empirio criticismo che è la più grande cazzata che sia mai stata scritta dal punto di vista filosofico e scientifico e per quanto io allora non avessi grandi strumenti però insomma sono arrivato a rendermi conto che non reggeva non era la strada giusta a mio modo di vedere e quindi abbiamo formato il famosissimo gruppo dei cani sciolti che era la nostra definizione ufficiale noi siamo i cani sciolti noti nell'universo globo in altri siti come dice il barbiere di Siviglia e no l'elisir di lunga vita dice noto a tutto l'universo in altri siti noi eravamo i cani sciolti e tu Andrea Ricci io Andrea Ricci Franco Lombardi Franco Stivala Frera Flavio Frera si che poi pensava con l'MS lui un gruppo un gruppo così insomma quello era il centro Lenin e noi per antagonismo eravamo i cani sciolti cioè apertura mentale libertà e ci si trovava a discutere si facevano relazioni dove vi trovavate? in casa Franco Lombardi ma era un gruppo informale però riconoscibile e si studiava si studiava si discuteva ognuno preparava ma tu pensa avevamo proprio bel tempo da perdere però ognuno preparava relazioni e così via ed è durato anche questo un po' di mesi nel frattempo c'era tutta la vicenda di Milano gli attacchi fascisti all'università gente che sparava con le pistole i morti in piazza la strage di piazza Fontana arriviamo quindi al 69 al 12 dicembre in cui era stato organizzato uno spettacolo di Dario Fol teatro sociale il 12 dicembre a Brescia doveva esserci quel giorno preciso naturalmente nel pomeriggio è arrivata la notizia c'è stato tutto uno sconvolgimento eccetera lo spettacolo ovviamente non è assolutamente stato fatto io corsi in questura a consegnare la pistola che era di mio padre che era rimasta a casa perché facevano spettate e cose varie e e quindi diciamo che in quel momento lì io ho avuto un piccolo ruolo anche dentro il movimento studentesco di Milano nel senso che Capanna aveva cominciato a dare quel taglio stalinista e militarista Icatanga che stravolgeva completamente secondo me istanze libertarie di ricerca eccetera e e quindi ci fu anche un momento all'assemblea della statale all'assemblea no o in qualche collettivo ecco c'era ancora un collettivo del movimento studentesco milanese in cui io presentai una mozione alternativa a quella di Capanna come hai osato rischiati ho preso un 32 33% dei voti però non ti hanno menato non ti hanno menato ah meno male tieni anche conto che poi io a Milano chi mi conosceva non è che potevano aspettarmi da qualche parte e quindi diciamo che lì si vide che il movimento si incanalava su quella strada lì e di conseguenza anche a Brescia noi eravamo sì movimento studentesco ma poi ormai non eravamo più dentro le scuole non avevamo una struttura un reticolo un po' eravamo cani sciolti e venivano avanti queste altre generazioni giustamente più giovani di due o tre anni che dentro le scuole erano ancora e che quindi presero in mano loro tutto sommato il movimento ma non è che a noi ci toglievano qualcosa evidente no cioè è naturale il fatto che io mi dedicassi di più all'attività dell'università in cui studiavo evidente ma la radiazione di quelli del manifesto appunto in quel periodo tu che se ne pensavi evidentemente a questo punto siamo nel 68 c'è stata la 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 cecoslovacchia e naturalmente noi eravamo con la cecoslovacchia non eravamo col partito comunista che approvava l'intervento sovietico e cominciò a uscire il gruppo la rivista del manifesto 69 e diciamo dentro il gruppo dei cani sciolti alcuni di noi cominciarono a guardare in questa direzione altri no quindi serenamente tranquillamente il gruppo si sciolse e alcuni di noi cominciarono a prendere contatti con questi del manifesto in particolare con Lidia Menapace la quale veniva molto spesso a Brescia anche perché a questo punto eravamo anche molto dentro nella scuola alcuni erano insegnanti altri stavano diventando comunque in quegli anni lì io facevo supplenze tutti gli anni cioè anche se non ero ancora laureato in realtà ero già un insegnante mi consideravo già un insegnante gli intellettuali bresciani della vecchissima guardia Ibaldo Icassa e questa gente qui rimasero fuori Icassa scriveva i suoi saggi i suoi appunti marxisti però avevano perso quel elemento di dinamica non non si erano neanche curati molto di mantenere i rapporti con questa realtà tumultuosa caotica difficile da capire eccetera e quindi arrivò la Lidia Menapace noi intanto avevamo fondato tra le altre cose il GISA gruppo insegnanti per una scuola alternativa GISA no GISA gruppo insegnanti scuola alternativa e ce n'era anche c'era anche il GISAV gruppo insegnanti di una scuola alternativa Valcamonica perché poi il gruppo del manifesto aveva delle radici forti a Bergamo a Bergamo certo a Bergamo a Lovere e da Lovere sulla Valcamonica quindi i compagni della Valcamonica attraverso Lovere ed erano una realtà già molto più operaia di noi aggiungo una cosa che ho dimenticato ma che è abbastanza importante nel 69 noi abbiamo cominciato cioè contemporaneamente alla formazione dei cani sciolti c'è stato il movimento delle fabbriche molto forte e quindi lì abbiamo cominciato a prendere rapporti con la realtà operaia che era la TB in Viale Italia l'OM e abbiamo conosciuto Roberto Cucchini Giuseppe Conti e Giuseppe Conti non so chi sia quello era un operaio molto molto in gamba tra l'altro molto intellettuale per essere un operaio che lavorava all'OM Giuri e Milani che erano alla TB e andavamo a fare i picchetti davanti alle fabbriche e ci fu anche un episodio di nuovo che è abbastanza umoristico perché nel maggio se non ricordo male del 69 adesso le date c'era un grande sciopero operaio e naturalmente per quel che riguarda l'OM si dava per scontata la riuscita ma per quel che riguarda la Fiat di Torino c'erano molte incertezze quindi noi eravamo in contatto poi con la FIOM eccetera quindi eravamo usciti un pochino dalla dimensione scolastica sudettesca e ci stavamo occupando c'erano i collettivi di quartiere che poi cominciavano a nascere quindi diciamo che la cosa stava assumendo un aspetto di movimento articolato eccetera e la FIOM organizzò dei pullman per andare all'alba a Mirafiori a Torino a picchettare le fabbriche perché non entrassero i crumiri e noi anch'io siamo partiti col pullman alle 4 alle 5 di mattina siamo arrivati davanti a Mirafiori deserta non c'era anima viva gli operai tutti in sciopero nessuno ha tentato di entrare quindi la spedizione è stata assolutamente inutile per un piccolo dettaglio personale che mentre sono lì arrivato con i compagni e gli operai davanti a Mirafiori arriva un tipo che io non ho mai visto né conosciuto cominciamo a parlare del più del meno cosa pensi di questo cosa pensi di quello naturalmente stava nascendo lotta continua potere operaio questa gente quindi parliamo e lui poi a un certo punto mi fa e di soffri che cosa pensi ah dico guarda ho letto qui e là ma non mi convince molto dice fai bene fai bene perché soffri sono io fai bene fai bene e va bene e quindi qui si crea quella frattura interna tra gli operaisti lotta continuisti potere operaio e quelli dal manifesto che hanno invece un'altra struttura mentale una visione diciamo un po' più articolata della realtà perché alla fine lotta continua vogliamo tutto e vabbè è una bella linea politica come si diceva non è un partito uno stato d'animo lotta continua esatto però erano bravissimi i compagni la Teresa Tiraboschi gente gente comunque a cui fare tanto di cappello però ragazzi una una fissità e quindi a questo punto lo sbriciolamento no gli operaisti il potere operaio vero e proprio no a Brescia non è mai esistito c'è stato il potere operario che è diventato il centro Lenin eccetera poi lì ci sono i cissi è nato il circolo Gramsci circolo Gramsci potere centro Lenin c'era a Natale c'era il circolo Gramsci c'era giù a Riosto a Riosto questa gente qui poi gli studenti che invece un po' presi dalla quindi Frera questa gente qui più giovani un po' presi dal modello di capanna quindi diventavano movimento studentesco nel senso politico partitico del termine la banda capanna su questo filone un pochino e poi venivano fuori servire il popolo o servire il pollo noi li chiamavamo così queste cose come ti rapportavi rispetto alla Cina di Mao la Cina di Mao era uno degli elementi di forza della della Roscianda cioè questa idea della rivoluzione culturale dell'abbattimento del partito come gerarchia del lavoro manuale che deve integrarsi al lavoro intellettuale idea splendide come non avevamo capito niente non avevamo capito niente però diciamo che almeno in tutti questi errori c'era parecchio di generoso e nello stesso tempo non andavamo in giro con i libretti rossi non eravamo dei fratelli ti saresti definito maoista tu nel 69 no perché i maoisti erano quelli lì gli ML erano gli ML con la linea in mezzo poi è chiaro che poi mao era uno stalinista questo comunque è stato anche uno stalinista creativo eccetera ma poi alla fine è chiaro che l'elemento veramente determinante era la guerra del Vietnam perché se noi non ci rendiamo conto che dietro tutto questo c'era la guerra del Vietnam ma direi prima ancora l'uccisione di Kennedy di Lucio Giona di suo fratello Martin Luther King cioè sono stati anni negli Stati Uniti cioè ci si dimentica che la segregazione razziale è durata fino ad allora che è stata rotta in quegli anni lì negli Stati Uniti è una cosa perfino incredibile a dirla oggi che era un paese segregazionista dove i negri non potevano andare ho detto negri dove i negri non potevano andare all'università o c'erano i posti dividi sugli autobus tra i bianchi e i neri è una cosa a dirlo oggi non ci si crede quasi che la società americana fosse così dall'altro lato c'era l'Unione Sovietica che si difendeva il Vietnam ma poi insomma a un certo punto era una società improponibile come Spenta Bieca con questi personaggi decrepiti è stato di mezzo Che Guevara ma sappiamo che fine ha fatto e insomma Cuba per esempio la vedevate come un punto di riferimento positivo Cuba? Cuba sì abbastanza soprattutto si viveva molto di miti e naturalmente Che Guevara era l'identificazione stessa tutti volevamo essere in fondo bello giovane rivoluzionario martire delle sue idee più di così non è che si entrava non stalinista perché non è non stalinista creativo coraggioso non si entrava almeno dopo c'erano quelli che spaccavano i capelli in quattro ma insomma alla fine facevano anche delle brutte fine quindi tornando al discorso del manifesto esce il manifesto con alcuni elementi caratterizzanti che sono la critica alla burocrazia del partito comunista l'identificazione con i movimenti di rinnovamento comunista perché Praga è stato un tentativo di cambiare il comunismo dall'interno non è stato un movimento anticomunista assolutamente e quindi questo è il manifesto a me ad altri con cui si hanno creati i legami parte già di amicizia scolastica come con Andrea Ricci che era un compagno di classe parte nel corso di queste discussioni dibattiti insomma si era creato un certo nucleo di persone che hanno pensato a questo punto basta cani sciolti non tutti hanno fatto questa scelta ma non c'è stata frattura litigio o altro ognuno ha fatto la sua strada ma quando è che l'avete costituito il gruppo del manifesto a Brescia io credo che l'abbiamo costituito adesso torna a guardare lì se riesce a ricavare qualcosa quello schemino ma verso la metà del 70 quindi già nel 70 credo che fosse più o meno nel 70 e se non sbaglio la sede l'avevate non l'avevate in viatosio sì ma ti devo raccontare la storia di questa di questa sede che si intreccia con un momento personale particolarmente critico sì era di sicuro il 70 perché allora prima di tutto abbiamo deciso adesso ci diamo una sede non era in viatosio era quella quella di era in viacattaneo era in viacattaneo che io ricordo non è fatta nella vostra sede però penso già nel 71 nel 72 in viatosio in viatosio dove? si scendeva in una specie di garage forse all'entrata poi dava magari su viacattaneo no forse ti ricordi male tu però non si scendeva in una specie di garage era stato qualcun altro fosse il circolo Gramsci magari che si trovasse lì io tendevo 16 anni tendevo confondere nel gruppo del manifesto entrò anche un tipo un po' un po' particolare molto un anarcoide eccetera Enrico Pedrotti che aveva un negozio certo quello che aveva il negozio sulle via Mazzini cose così in via Mazzini ma prima ce l'aveva da qualche altra parte allora decidiamo di fare questa storia raccontata durante il processo in aula in corte d'assise mi è costata la soluzione perché i giurati si sono messi a sghignazzare tutti quanti e a questo punto l'accusa per cui ero perché in quegli anni non dimentichiamoci si rischiava parecchio c'era un carissimo amico che poi morì sotto una slavina nell'aprile del 69 Claudio Bartoli che ebbe una denuncia per vilipendio della bandiera perché aveva detto aveva scritto basta col tricolore la bandiera rossa è sempre stata la più bella e questa frase fu sufficiente poi il processo non ci fu perché lui purtroppo morì per incriminarlo per incriminarlo vilipendio la bandiera vilipendio la bandiera italiana e io pure sono finito in corte d'assise per vilipendio insomma rischiato perché se mi condannavano della bandiera stai dicendo io sono finito in corte d'assise per vilipendio della magistratura e della polizia perché come allora intanto siamo andati a cercarci questa sede in via Cattaneo troviamo un bello stanzone che dà su un cortile c'è l'amministratore di una contessa e noi ci presentiamo come quelli che vogliono creare un laboratorio per il centro del manifesto di Enrico Pedrotti che vende i manifesti in via Mazzini manifesti intesi come ho capito quindi facciamo un regolare contratto d'affitto per il centro del manifesto e lui dice mamma mia che bello che ho trovato voi perché la contessa si è talmente raccomandata di non affittare nessun gruppo politico e niente lì nel dicembre del 69 da quel centro del manifesto esce un vibrante volantino che era morto Valpre era morto Pinelli e noi lì facevamo ormai la battaglia per nel 70 facevamo già la battaglia per l'innocenza di Valpreda e nel 71 abbiamo presentato poi come candidato al Parlamento 72 nel 72 sì per tirarlo fuori dalla galletta e quindi io lì nel volantino ci stava scritto che in Italia c'erano dei magistrati mafiosi e dei poliziotti assassini che a volersi utilizzare non era vilipendio della magistratura o della polizia era l'individuazione delle colpe specifiche di qualcuno però naturalmente poi Calabresi era stato sparato e quindi si capisce che la cosa non è che fosse una buona carta di presentazione comunque è il ciclostilato improprio in via Cattaneo chi è il responsabile chi ha fatto il contratto d'affitto ero io e quindi finisco in corte d'assise davanti a 12 giurati nel 75 ci hanno messo del tempo e lì mi hanno assolto perché non era possibile dimostrare se ho fatto un'analisi stilistica avrebbero capito chi aveva scritto ma insomma il fatto che io avessi fatto il contratto d'affitto non bastava a dire che fossi stato io a scrivere il volantino quindi non è stato assolto con formula piena sì perché non avevano le prove non avevano sufficienti prove mancata di prove non avevano sufficienti prove e comunque erano anni di repressione dura perché oggi figurati con quel che gira oggi uno dice come è pensabile che uno rischi il licenziamento io ero diventato di ruolo da poco eccetera Paolo vacci piano perché a me hanno condannato per aver scritto che un padrone arrogante padroncino lo so lo so cosa ti è capitato con quel che dice tutto il tempo la televisione poi dice vabbè incidenti che capitano non dico nulla sulla magistratura bresciana perché ho già avuto i miei guai però però vabbè e non solo questi ne ho avuti anche dopo quindi per carità niente quindi mettiamo in piedi questo questo centro del manifesto e cominciamo a svolgere attività politica quanti eravate all'inizio il primo gruppetto io direi che poi tutto sommato una cinquantina di militanti si era formata e tieni conto che poi avevamo assunto la struttura c'era il gruppo studentesco c'era il gruppo degli insegnanti c'era il lavoro operaio quindi avevamo un'articolazione una articolazione interna anche abbastanza precisa e lì appunto ho cominciato a conoscere Ettore Crocella visto che l'abbiamo nominato in precedenza io andavo su anche in Valtrompia c'era il cotonificio Bernocchi ogni tanto scrivevo qualche articolino di cronaca locale per il manifesto me lo pubblicavano e niente abbiamo abbiamo cominciato la nostra vita all'interno di questa struttura organizzativa il manifesto tentò l'accordo col potere operaio che fu una delle operazioni più stupide però evidentemente stavano cercando tentando un processo di unificazione e qui servirebbe un'analisi storica abbastanza approfondita per capire come mai questo movimento passava il suo tempo a combattersi ferocemente all'interno cioè direi che in una distribuzione delle energie almeno la metà andava le polemiche contro gli altri gruppi forse anche di più e la cosa non è migliorata purtroppo nonostante il tempo non porta saggezza a quanto pare perché si continua così devono essere delle radici sociologiche sociopolitiche profonde perché cioè la forza della destra che non è nulla sta nel fatto che si coalizza attorno con poche chiama le idee a sforzarsi istinti elementari e lì poi vabbè hanno i loro scazzi interni ma non diventa mai una lotta ideologica come è stata in maniera estenuante tra di noi poi abbiamo cominciato una certa politica cercando anche noi un pochino di allargarci verso i gruppi più simili c'era l'avanguardia proletaria maoista di Ruzzenenti di Ruzzenenti Ruzzia e Ruzzenenti anche Ruzzenenti era dell'APN anche Marino pensa grave persone però cioè non potevi se non eri d'accordo con la chiesa non eravamo proprio sempre proprio tutti d'accordo già come manifesto e poi c'erano personalità anche dentro la comune ispirazione ma tra Pintor Rossanda Mena Pace c'erano delle differenze ho parlato Natoli Natoli c'erano delle differenze però insomma si stava si stava assieme e invece il tentativo ebbe purtroppo qualche risultato nei riguardi del circolo Gramsci cioè della Fusia eccetera che poi confluirono anche loro all'interno e lì furono alcuni anni di diciamo per me fino al 75 76 quando poi beh ci fu la campagna elettorale del 72 veramente una roba secondo me degna di un film di Belushi perché io andavo in giro a fare i comizi nella bassa dove avevamo trovato dei personaggi un po' particolari così eri candidato non eri in lista non ero assolutamente in lista anche perché poi credo nessuno di Brescia fosse in lista non mi ricordo non mi ricordo proprio era una cosa che non mi entrava però andavo in giro Valpreda i volantini e così via avevamo dei poi il manifesto era diventato comunque un piccolo fenomeno nazionale insomma quindi c'era la gente che cercava i contatti col manifesto quindi era facilitato abbiamo preso lo 0,7% dei voti quindi gli unici a votarli furono i GCR tutte le altre organizzazioni boicottavano le elezioni perché era troppo moderato votare la parte era l'unica organizzazione che decide di indicazione di voto per il manifesto 200-300 voti in più in scala nazionale ce li siamo guadagnati noi io beh poi ad esempio c'erano state le lotte alla Marzotto a Manervio insomma quindi si svolgeva anche un'attività nel territorio volendo ci conoscevano a Manervio c'era la Marzotto ah sì adesso che fece una lotta a cui anche lì avevamo sostenuto partecipato volantinato picchettato e così via e cominciavo travagliato io arrivo travagliato questa piazza immensa dove c'erano 20 persone ma 20 persone ma nei bar con l'aria così mi guardavo è chiaro mi guardavano ma non si volevano compromettere io mi ero preparato un discorso stupendo avevo lì tutta la mia scaletta arrivo scarico gli altoparlanti il banchettino metto lì il mio foglio piglio il microfono e il vento si porta via il foglio hai dovuto improvvisare a braccio quindi hai improvvisato a braccio comunque vabbè è andata bene però anche questa me la ricordo abbastanza come un'esperienza però ecco io lì cominciai a vedere che dentro il manifesto in realtà giravano personaggi un po' di tutti i tipi per cui adesso non mi ricordo più chi era ho voluto dimenticare il nome era un personaggio minore di Bergamo e insomma questa volta il comizio lo faceva lui e nel comizio tira giù una tirata contro la pornografia si entrava come i cavoli a merenda eccetera finisce il comizio e viene te hai visto che togo che sono stato le ho contata bene su insomma cioè non mi piaceva più molto andare a cattare i voti in questo modo diciamola pure e nel frattempo poi strage di piazza loggia eccetera ecco 74 però siamo già già il rapporto col bambino senti una cosa siccome è pronto da mangiare finiamo qui no no continuiamo altro da aggiungere no no calma siamo arrivati a 72 elezioni 72 ricominciamo la prossima volta va bene che fine fa questa vicenda qui cosa pensi di farne allora io voglio raccogliere tutte le testimonianze dei protagonisti dell'epoca e poi voglio cominciare a lavorare anche sui documenti la mia logica è in un paio d'anni scrivere possibile qualcun altro anche una specie di appunti per una storia dell'estrema sinistra a Brescia voleva solo chiamare il mondo anche a Brescia ecco questo è il consenso sì sì avevamo solo quel modesto compito che ci aveva toccato Carlo Niente di più finora hanno interpretato il mondo si tratta soltanto di cambiarlo cosa vuoi che ci voglia ti mando il messaggio quando poi tu mi dici se sei imponibile o meno ok ciao grazie mille ciao buon appetito anche a te ciao 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 ciao